Credere, conoscere, comprendere, orizzonti cristiani, la gioia del viaggio. RIVESTITI DI POTENZA DALL'ALTO CATECHESI DEL Biblista Don Fabio Rosini sul Rito della Confermazione Sesto incontro, l'incorporazione nella Chiesa Presenta Monia Parente Un caro saluto, amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile con le catechesi del nostro biblista Don Fabio Rosini. Buongiorno Don Fabio. Ben trovati. Oggi ci parlerai, come abbiamo appena ascoltato dalla nostra sigla, del tema dell'incorporazione nella Chiesa. Cosa c'entra questo tema con il sacramento della confermazione del quale ci stai parlando? Ecco, è venuto il momento in cui dobbiamo riflettere sul perché la Chiesa latina, la Chiesa occidentale, insiste perché il sacramento venga conferito da un vescovo. Cioè, la cosa che normalmente succede è che questo sacramento viene ricevuto dalla presidenza episcopale della liturgia. Dobbiamo considerare che, per esempio, in Oriente questa cosa non è rispettata, non è tenuta da conto perché viene preferito il collegamento con l'imbattesimo del sacramento. Perché effettivamente il sacramento della confermazione è l'altra parte di un'iniziazione cristiana che deve essere battesimo, cresima e quindi sfociare nella reiterazione costante dell'Eucaristia. Noi invece abbiamo differito il sacramento della confermazione per vari motivi. Uno di questi motivi è che noi riteniamo, noi latini occidentali, noi riteniamo che sia molto bello che ci sia un sacramento, ordinariamente, che un qualsiasi battezzato deve almeno una volta nella vita ricevere un sacramento da un vescovo. Cioè, incontrare la pienezza del sacerdozio, incontrare la presidenza della diocesi, della vera unità della comunità cristiana, della realtà del popolo di Dio. Incontrando così qualcuno che pienamente mostra l'incontro con la Chiesa, il rapporto fino in fondo con quella realtà che sta consegnandogli questo sacramento. A dire il vero, sono vari i segni in questo sacramento che parlano di questa realtà ecclesiale, cioè che questo sacramento ha una caratteristica fortemente ecclesiale. Ovvero sia, è qui il momento in cui il padrino accompagna il Cresimando con il gesto normale di porgli la mano sulla spalla destra e stargli accanto. Peraltro rappresentare un po' anche fisicamente quello che poi sarà il compio dello Spirito Santo, quello di consigliare, essere accanto, essere il consolatore di ogni cristiano. Per cui c'è in realtà un intorno, mentre c'è la comunità cristiana che celebra questo sacramento al suo interno, nella sua realtà di convocazione, ecco, c'è la presidenza del vescovo, c'è il padrino che accompagna. E tutto questo perché con il sacramento si completa la consegna della realtà base che fa da fondamento alla vita di un cristiano e quindi si è incorporati alla Chiesa. Il problema è appunto incontrare un vescovo, ci sono vari motivi perché è il vescovo che conferisce l'unzione della Gresima, ma uno di quelli che vogliamo sottolineare particolarmente è questo fatto di essere più perfettamente vincolati alla Chiesa. Non è possibile pensare a questo sacramento come un sacramento che si acquisisce per una dotazione personale, no, è anche una dotazione personale, ma fondamentalmente rappresenta una piena incorporazione nel corpo di Cristo e della Chiesa. Allora, noi dobbiamo parlare un pochino di questa cosa qui, che è un argomento difficile. Oggi come oggi non è facilissimo parlare della Chiesa, comunicare sulla Chiesa il portato di un valore bello, di un valore luminoso, perché c'è una situazione di critica, di alterità e ci sono delle cose che vengono dette normalmente e nei nostri candidati, magari adulti o anche ragazzi, al sacramento della confermazione, bisogna poter affrontare questo argomento perché bisogna togliere una serie di malintesi. Don Fabio, con il battesimo si diventa cristiani, quindi di per sé si diventa già parte della Chiesa. Perché bisogna sottolineare nuovamente nel contesto del sacramento della confermazione questa appartenenza, questa incorporazione? Per vari motivi. Innanzitutto noi potremmo sintetizzare con questa formula molto semplice il battesimo dall'essere figli di Dio. La confermazione consegna la possibilità di vivere da figli di Dio, di agire da figli di Dio. E una volta che agiamo da persone redente, salvate, con la vita di Cristo dentro, cosa faremo? Di cosa ci occuperemo? Cosa porteremo avanti? Che iniziative saranno fra le nostre mani, nel nostro cuore? Ecco, agire da cristiani implica avere molto chiaro che cosa è essere Chiesa e che cosa è la Chiesa in sé. Ecco, allora, noi dobbiamo far presente questa diffusa opinione generale. Tantissime persone che anche si avvicinano all'ascolto della parola di Dio, che sono anche in un certo senso entusiaste nell'ascoltare magari una predicazione, poi si fermano, si bloccano, hanno un'alterità quando è il momento di parlare della Chiesa in maniera esplicita, diretta. Perché? Perché dicono questa classica frase, io credo in Gesù Cristo ma non credo nella Chiesa. Ecco, allora, dobbiamo chiarire tante cose. Primo, il malinteso quasi comico che c'è in una frase di questo genere è che è questo. Dire io credo in Gesù Cristo ma non credo nella Chiesa è come dire io credo che Ludwig van Beethoven sia un grande musicista però le sue sinfonie non si possono sentire, come sarebbe a dire. Se io penso che Einstein sia il più grande fisico del secolo scorso, penso di conseguenza che le cose che ha scoperto siano le più geniali, che la teoria della relatività sia una rivoluzione straordinaria della nostra maniera di vedere il mondo. Se io stimo Beethoven ne ascolto quindi volentieri la musica. Come si fa a pensare bene di Gesù Cristo senza pensare bene di quello che lui ha innescato, di quello che lui ha messo in atto? Perché la Chiesa è un'opera di Cristo. Cioè la Chiesa è un'idea di Cristo, non è un'idea degli uomini. Non è una cosa che è una struttura che nasce perché vogliamo, come dire, scippare Gesù Cristo a se stesso. No, no, proprio parte da lui. Noi abbiamo che lui ha stabilito una struttura perché ciò che lui portava aveva bisogno di una concretizzazione. Tutto ciò che ha un contenuto ha una forma. Si può essere in stato di antipatia nei confronti delle cose codificate, però non c'è niente da fare. Se una cosa bisogna farla dovrà trovare uno spazio, avere una sua concretezza. Non possiamo assolutamente pensare di portare avanti qualcosa che serva alla gente, qualcosa che faccia bene all'uomo, senza che l'uomo lo viva concretamente in luoghi, in situazioni, in cose che hanno una loro pedestre concretezza. Ma soprattutto dobbiamo identificare la cosa fondamentale. Cosa ci ha portato Gesù Cristo? Se noi vogliamo vedere cosa è l'effetto della sua croce e della sua resurrezione, dobbiamo cogliere il punto di quella che è la nostra sfida più grande. Perché a questo tema risponde ciò di cui stiamo parlando. Ovvero sia, qual è la cosa più importante da fare nella nostra esistenza, di uomini e di donne? Qual è la cosa più drammatica, se non ci riesce di farla, e più felice se ci riesce di farla? La cosa più importante nella nostra vita è saper stare con gli altri. L'uomo è un essere sociale, ha bisogno disperatamente, essenzialmente, di relazionarsi agli altri. Nessuno di noi vive per se stesso, nessuno di noi può sopravvivere da se stesso. Noi abbiamo bisogno di buone relazioni con gli altri. Essere anche umanamente molto affermati, economicamente molto solidi, lavorativamente molto bravi, efficaci, ma non essere capaci di relazioni interpersonali, vuol dire essere dei falliti, vuol dire non avere una vita. Diceva Sartre che l'inferno sono gli altri, ed è vero. Stare male con gli altri vuol dire stare all'inferno, perché il vero inferno è la solitudine, ma è anche vero il contrario, che il paradiso sono gli altri. Cioè stare bene vuol dire stare bene con gli altri, vivere è saper stare con gli altri. Ci sono persone che sono molto sapienti in campi più disparati e che sono degli analfabeti relazionali, degli analfabeti affettivi, persone incapaci di voler bene. È questo quello che misura la nostra vita, lo stare con gli altri, il saper stare con gli altri. Se un Salvatore ci vuole dare vita piena, se abbiamo un Redentore, a cosa ci serve questo Redentore, se non a avere, ricevere da lui l'arte di saper stare con gli altri, che è l'arte dell'atto più importante della nostra vita, l'arte di amare. Amare è un verbo transitivo, implica un oggetto amato, una persona amata, un fine. Amare per amare non esiste. Allora, che cosa è la Redenzione di Cristo? È la possibilità che ci viene offerta e non imposta, e non è un automatico, non è una cosa che funziona per definizione, a prescindere dalla nostra libertà, la possibilità che abbiamo di stare insieme. Questo si chiama la Chiesa. La Chiesa è il non vivere più da soli, è il compaginarsi, è l'unirsi, l'essere chiamati insieme ed essere persone capaci di vivere insieme. L'immagine, infatti, della prima comunità è un'immagine di comunione, di fusione di persone. Queste cose sono la Chiesa. E' qui il punto, che questa cosa qui rappresenta una sfida, che è enorme, che dobbiamo capire meglio, la sfida di un incontro. E' l'incontro fra l'opera che Cristo può fare in noi e la nostra libera risposta. E la Chiesa è questa sintesi qua. E questa cosa rappresenta tutto l'enigma, la bellezza e la miseria della Chiesa. Hai usato Don Fabio dei termini molto forti, forse anche un po' scomodi. Hai parlato di enigma, hai parlato di bellezza e miseria, riferendoti alla Chiesa. Ripartiamo proprio da qui. Allora, noi dobbiamo capire la Chiesa. Con la Cresima uno si incorpora definitivamente alla Chiesa e quindi deve averne desiderio di farlo e deve capire cosa fa. La Chiesa è la meraviglia, l'avventura, la cosa più importante da fare su questa terra, perché è l'avventura di stare insieme. L'ipotesi che Gesù Cristo ha messo in atto è che le persone possano unirsi, volersi bene, diventare una cosa sola. Questa cosa qui ha delle coordinate ben precise. L'opera di Cristo innanzitutto rispetta uno statuto essenziale, importantissimo, che è quello della incarnazione, ovvero sia Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo e la Chiesa, parimenti, è opera di Dio e opera umana che si incontrano. È questo che fa la bellezza della Chiesa e che ne rappresenta la sua instabilità, la sua destabilizzante situazione di non predefinita certezza di successo nelle opere della Chiesa. Allora, è un'opera di Dio che però viene fatta negli uomini con la loro libertà e quindi dobbiamo capire qual è la nostra parte, qual è la parte di Dio e cerchiamo di dirlo in questo breve tempo che abbiamo a disposizione perché stiamo parlando del mistero più grande, perché in un certo senso la Chiesa è la vera buona notizia della redenzione perché in fondo, in fondo, se uno ci pensa che Dio che ci ha creato ci ha anche redenti in Gesù Cristo, cosa vuol dire? Dov'è che si sperimenta? Dov'è che si vede che Cristo è veramente risorto? Nel fatto che ci sia la possibilità di incominciare ad amare e amare non è un atto disordinato, amare non è un atto sentimentale, è un atto intelligente, efficace, è fatto, non con discontinuità o con occasionalità, fatto realmente, strutturalmente, fatto bene. Allora, cosa è la Chiesa? Dobbiamo vedere alcuni aspetti. Innanzitutto la Chiesa, un termine che viene da Ecclesia, che è un termine greco, che viene dal verbo Eccalein, che vuol dire chiamare fuori, convocare, verbo scelto dalla traduzione greca dell'Antico Testamento per la sua assonanza con il termine classico, Cahal, che era il termine ebraico, per indicare l'assemblea. In effetti, sotto questo termine ebraico ha il termine col, che vuol dire voce. Cahal vuol dire convocato, colui che è stato chiamato. La Chiesa, Eccalein vuol dire coloro che sono stati convocati, chiamati a essere insieme, convocati, noi diciamo. Allora, la prima cosa è che c'è questo aspetto relazionale. Questa è la cosa fondamentale, che spiega anche tutte le strutture della Chiesa. L'antico adagio del diritto è che dove c'è una società e c'è deve essere del diritto. Qualunque gruppo di persone si agglomera per fare cose insieme, bisognerà stabilire chi fa cosa e bisognerà darsi dei compiti. È naif, infantile, pensare a una associazione di persone dove non ci sia qualcuno che svolge un ministero e qualcuno che ne svolga un altro, dove non ci sia una distribuzione dei ruoli e dove non ci sia l'esercizio dell'autorità. È impossibile, ripeto, è infantile, è un po' così, un po' nostalgico, old style, secondo una visione un po' rivoluzionaria da quattro soldi, pensare che le persone possano stare insieme senza che ci sia una gerarchia, quella necessaria, quella che ci deve essere, non di più. E allora, il punto è che però tutto questo ha un aspetto vocazionale, cioè è un'iniziativa di Dio. Noi dobbiamo riconoscere che la Chiesa è un luogo dove si vive bene e si gode della sua fulgida bellezza se viene rispettata l'iniziativa di Dio, se la convocazione, l'essere in relazione gli uni con gli altri, deriva dalla scelta di Dio, non dalla nostra scelta. È interessante che nella Chiesa ci chiamiamo fratelli, non amici, cioè possiamo essere amici e lo siamo ed è bellissimo, ma fondamentalmente il nostro modo di relazionarsi gli uni agli altri è quello dei fratelli. Gli amici si scelgono, i fratelli no, i fratelli ti trovi quelli che ti trovi e quelli sono quelli a cui vuoi più bene, forse. Con i fratelli c'è un legame che deriva dai genitori, deriva dal padre, così è il nostro legame. Se il legame della Chiesa è il gusto, è il piacere, è l'elezione, non è la Chiesa quella che stiamo stabilendo, perché non è basata sull'iniziativa di Dio. La Chiesa, quindi, Don Fabio, è il luogo nel quale, per iniziativa di Dio, siamo chiamati ad imparare a stare con gli altri, ad imparare a vivere con gli altri. Come rispondere a questa sfida? Appunto, questa sfida che è la sfida più difficile nella vita dell'uomo, il saper stare con gli altri, ha una sua strada strada sana. Innanzitutto, ripetiamo, è il Dio che chiama, che convoca la Chiesa, è il Dio che deve spezzare le nostre catene interiori nella redenzione di Cristo per renderci capaci di stare con gli altri, amarli veramente, come si ama un fratello, perché di fatto generati dallo stesso padre. Questo implica una rigenerazione della propria vita. E infatti, un altro elemento fondamentale è che la Chiesa dà culto a Dio. Cioè, non è un'associazione dove si centra la finalità sul benessere umano. Certamente implica la Chiesa la felicità, ma questa felicità è relazionale. Stare con gli altri e avere come Dio della propria esistenza il Dio di Gesù Cristo ha come conseguenza la felicità, ma non pone questa visione un po' narcisa che ci abbiamo oggi come oggi, questa maniera di voler stare anche nella Chiesa solamente per coltivare il proprio benessere, la propria crescita. Ecco, il benessere e la crescita ci saranno, ma se noi li finalizziamo come punto essenziale della nostra opera, siamo fuori mira, perché la nostra esistenza chiede una risposta molto maggiore che non un momento di benessere, chiede di un senso grande, chiede di essere orientata a una risposta, a una luce, a una grandezza più luminosa, più definitive. Tutto questo identifica il fatto che uno scopre che la Chiesa è uno strumento di Dio. La Chiesa serve come strumento, cioè non è che uno sta nella Chiesa per un'appartenenza autoreferenziale, è infatti il punto ulteriore è capire che la Chiesa è per il mondo. La Chiesa non è fine a se stessa, per questo non può essere il benessere il centro del nostro essere nella Chiesa. La chiamata che Dio ha esercitato da Abramo in poi via via a tutti i personaggi che hanno condotto gli snodi fondamentali della storia della salvezza e poi quello che in Gesù Cristo si è fatto presente come il compimento dell'opera della salvezza era e è sempre stato caratterizzato da una chiamata a tutto il mondo per tutti gli altri. Cristo parlerà della Chiesa e della sua comunità come della sale della luce del mondo cioè una funzione, un servizio, essere per gli altri. cioè la Chiesa non è una cosa in cui uno entra per associarsi a un club esoterico a una setta a un luogo di eletti che stanno bene perché hanno imparato come stare fra di loro perché anche le associazioni a delinquere sono così. La realtà è che noi nella Chiesa stiamo per essere come Cristo è stato nel mondo. Cioè Cristo è uno che ha pensato alla sua vita come una cosa data per gli altri. Cristo è uno che pensa di un suo fatto privato una cosa che riguarda solamente lui in fondo cioè l'ingiustizia a cui viene sottoposto pensa a ciò come a qualche cosa che salverà il mondo intero e ogni cristiano entra nella Chiesa e fa parte del corpo mistico del Signore che è appunto la Chiesa perché sta portando qualcosa al mondo intero. il Vangelo non è una cosa che riguarda solamente pochi eletti che si prendono si accattano questa cosa per poter se la godere no è una cosa che deve illuminare la vita di tutta l'umanità è una cosa che ha il compito di essere luce sale noi sappiamo benissimo che il sale ha la funzione di insaporire tutto tutte le pietanze in cui è messo perdendo un pochino sciogliendosi e così la luce ha il compito di consumarsi per poter fare il suo servizio ai luoghi che illumina cosa è più importante la lampadina che ci illumina o noi che siamo illuminati dalla lampadina la lampadina serve noi la Chiesa serve il mondo e serve al mondo per poter trovare quell'orientamento che è verso l'amore di Dio per fargli cheggiare nel mondo il sapere che c'è un Padre celeste tenero e provvidente e c'è un Salvatore che c'è il dono dello Spirito Santo allora il problema è che la Chiesa perde se stessa quando si perdono queste coordinate quando è che la Chiesa emette la sua miseria quando si parte dal perdere l'aspetto comunitario e quindi si vede ciò come una cosa finalizzata la propria realizzazione personale quando si perde l'aspetto vocazionale quando agisco nella Chiesa non perché sto obbedendo all'opera di Dio ma una serie di deduzioni che sono mie che non vengono dall'iniziativa di Dio sono cose che io faccio perché mi va di farle a me non c'è più vocazione c'è impresa intraprendenza e allora la Chiesa diventa orribile in quel momento perché perde la sua realtà la Chiesa diventa sgradevole quando non dà culto a Dio quando dà culto ad altro quando diventa un po' schiava di questo mondo perché lo vuole compiacere perché ha paura di perderne i favori e allora diventa l'ombra di se stessa e viene calpestata viene rigettata quando i cristiani non sono cristiani sono sgradevoli ma quando sono cristiani sono sempre apprezzati il vero problema della Chiesa è la Chiesa stessa il vero problema della Chiesa è se stessa non è tanto il problema del mondo che ci perseguita del mondo che non è d'accordo con noi il mondo è il mondo che ci aspettiamo che ci vogliamo aspettare da chi non è stato toccato dalla grazia di Dio sarà come siamo noi senza grazia di Dio cioè con tanti pericoli con tanti inganni e con tanti valori purtroppo deturpati da tanta inerzia di debolezza ecco ma se la Chiesa è se stessa se rispetta la sua vocazione allora diventa strumento di Dio cioè diventa luogo dove si incontra l'opera di Dio una delle prove peraltro della potenza di Dio è proprio la sopravvivenza della Chiesa stessa malgrado la debolezza delle sue parti non c'è nessuno scandalo nessuna sorpresa nel fatto che uno scopre in la Chiesa tanta debolezza ma è normale questo ognuno di noi nella propria vita scopre tanta debolezza certo ogni peccato di uomini e di donne della Chiesa fa male al mondo intero ed è gravissimo perché il problema più grande che c'è nel mondo oggi non è il male che c'è ma il bene che non si propone come alternativa le persone continueranno a pensare a avere potere a fare denaro e a vivere di stupidaggini finché non apparirà una vita più nobile e questo solo la Chiesa lo può mostrare ma se la Chiesa non è se stessa la Chiesa è gravemente responsabile al riguardo del mondo e quindi ogni cristiano che è chiamato con il sacramento della confermazione a vivere la sua incorporazione alla Chiesa è chiamato alla sfida della fraternità all'obbedienza alla vocazione e all'interpretare la propria vita come una missione questa è una vita splendida questa è una vita interessantissima non ci sono cose più interessanti da fare in questo mondo di imparare a stare con gli altri scoprire il mistero della propria chiamata del proprio rapporto con Dio e compiere qualcosa di importante il Signore ce lo concede a tutti siamo in chiusura grazie Don Fabio per questa Catechesi grazie a voi a tutti voi amici in ascolto grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana rivestiti di potenza dall'alto catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito della confermazione sesto incontro l'incorporazione nella chiesa ha presentato Monia Parente Grazie a tutti Grazie a tutti